intanto scusate questo cambio di diapositive ma come ateneo siamo obbligati a usare dei template già fare una presentazione mista e mal tollerata quindi ho dovuto inserire questo pazienza allora prendendo spunto da quello che si è detto di oggi soprattutto guardando i tempi a meno che questo non sia il fuso orario di londra siamo un po in ritardo cercherò di essere sintetico ma di prendere alcuni spunti specialmente arrivati dal pre dall'intervento del dottor la mastra tanto questo non è villa sorra ma quando si parla di una stanza cielo aperto il cripto portico di di caserta era l'immagine che in quel momento mi piaceva formazione ne approfitto per dire che proprio è in nuce un master in cura valorizzazione gestione dei dei parchi giardini storici ed aree archeologiche di cui dovrei essere il direttore quindi ovviamente unibo proprio per colmare quel tassello alto di cui parlava prima cioè i giardiniere chi controlla i controllori quindi in realtà esista la sapienza un master del genere aperto a un gruppo di persone molto limitato da due curricola di cui uno sul verde ma che con poche iscrizioni e comunque poche nozioni detto questo l'altra parola era la conservazione quindi la gestione che fa parte anche del titolo che è un po quello che il ministero vuole cioè dieci anni devi imporre una gestione se no tutto quello che semini va perduto quindi la gestione che vediamo in villa sorra in realtà è la stiamo replicando in diverse situazioni analoghe con cui abbiamo convenzioni giardino giusti a verona sassuolo caserta perché i problemi poi sono sempre gli stessi è sostanzialmente io ovviamente sono di estrazione di agraria mi occupo di alberi tappetti erbosi eccetera eccetera quindi non certo di manufatti ovviamente nel tema della gestione è fondamentale capire il ruolo della vegetazione ma è fondamentale capire quel giardino se è un giardino pittorico o no cioè è l'originale non è l'originale abbiamo prima rivisto delle ricostruzioni quindi quella pianta non c'era ma ce la metto perché nel disegno di x secoli fa c'era però la pianta nasce dall'anno zero all'anno 30 100 200 a seconda di quanto potenzialmente può vivere a seconda di quanto bene o male io la tratto quindi sono due binari paralleli trattare gestire la pianta alberi monumentali altro capitolo che si è toccato e mantenere l'originalità di un giardino a villa sorra adesso ci stiamo occupando della parte romantica che la più facile per me perché se io tolgo un albero non ve ne accorgete che ne metto due non ve ne accorgete purché lo faccia con grano salis cioè che vado a mettere delle piante che abbiano un senso è ovvio che se ci metto del phoenix dactilifera probabilmente tutti voi ve ne accorgereste è un giardino che deve dare delle sensazioni quindi non è la pianta che mi dà la sensazione ma è un insieme di piante quindi è un insieme di piante più manufatte cioè per assurdo andremo a restaurare delle rovine di solito uno se vuole restaurare fa un qualcosa per crearci qualcosa di bello e completo no noi andiamo a restaurare perché giustamente è la rovina il cardine del del giardino romantico cioè quella che ti determina sensazioni cioè è la classica coda in autostrada per curiosi quando c'è l'incidente cioè quello è il giardino romantico chiunque di noi anche se non vuole butta l'occhio e crea la coda perché è una sensazione quindi la rovina ti crea la coda la rovina sarebbe la macchina a cartocciata ovviamente è un gruppo di ricerca nasce col professor chiusoli maestro mio e di anna letizia che cito sempre perché per me è stato fondamentale peraltro anche fabio ha fatto la tesi con lui ci occupiamo un po di verde a 360 gradi c'è un ambiente generale e un bene cioè sono due elementi che si devono andare a inserire uno nell'altro quindi l'ambiente lo voglio conservare ma è un ambiente vincolato dalla sovrintendenza quindi lo devo devo riuscire a conservarlo e poi a tramandarlo ai miei figli ai miei nipoti dicevo prima a versailles sono stati fortunatissimi nel 98 quando c'è stata una tromba d'aria che ha azzerato tutta una situazione di discrepanze architettoniche adesso alla regge di caserta abbiamo un problema analogo per cui dovremmo disfare la le piante della linea d'acqua sono 3000 e passa lecci perché forse i nostri figli riusciranno a vedere quello che il vambitelli ha disegnato se no adesso io vedo al di là dei morti dei cantieri piante che ogni settimana la mafei manda la foto è caduta anche questa anche quell'altra e vai a rappezzare una situazione non ha alcun valore architettonico non ha neanche nessun valore ambientale dal punto di vista ecologista però prima o poi il nodo viene al pettine quindi qualcuno su questa terra si dovrà prendere la responsabilità di darlo ai figli o ai nipoti in modo che sia fruibile nello stesso modo in cui l'architettura venne pensata questa è villa sore il giardino romantico quindi nasce un censimento cioè io devo sapere che cos'ho perché se non so che cos'ho non so come intervenire qui ho dei numeri e delle piante che so come stanno ma posso anche capire come staranno come faccio a saperlo sapendo che pianta è in che luogo è oggi faccio la sua fotografia quindi il transetto evolutivo di questa pianta mi porta a determinare quello che potrà essere poi ci sono delle accelerazioni nel problema come parlavo prima di caserta da giugno a ieri l'altro quando ero giù ho visto 18 cadute che secondo me non erano così intuitive nel breve periodo di solito noi quando analizziamo un albero monumentale faccio fatica a dire l'anno prossimo faccio una riverifica perché non ho gli strumenti per notare la differenza di quello che è successo quindi sono sempre lassi di tempo dei 5 10 o 15 anni in alcune case ci sono delle accelerazioni per fortuna sono molto poche queste accelerazioni quindi censimento di tutta la pianta con lo studio delle delle aree suddivisione delle aree comodissimo in fase gestionale anche livello di censimento tu lo devi dare in maniera che chi percorre capisca subito dov'è il problema dov'è quell'impianto di irrigazione dov'è quella pianta quindi o un sistema su palmare che ti dice che la pianta g4 è lì oppure tu sai che il g è quel quadrato verde dentro la 4 sarà vicino alla 3 alla 5 quindi in alto a sinistra per un ipotetico foglio in cui scrivo di ogni pianta viene redatta una scheda perché prima o poi serve ma non è la mera scheda che spesso fin dall'epoca di chiusoli ci mandava a fare i censimenti e poi rimanevano in un cassetto del comune per fortuna adesso ci sono i sistemi informativi territoriali quindi sono degli open source il gis il qgis usato tantissimo tutte le le informazioni che noi abbiamo cioè io nell'89 post lauream ho seguito il restauro di una parte del dello stesso giardino quindi per fortuna alcune di queste informazioni io le posso montare su questo gis cioè ovvio che quando vado in ospedale qui a bologna l'usl il medico apre vede tutto quello che ho fatto tutti i miei vaccini cioè vede tutta la mia storia quindi riesce a capire se sono arrivati in queste condizioni dove era il problema che c'era in base a ciò che è successo prima possiamo farlo per gli alberi costa uguale l'importante è utilizzare un sistema che sia velocemente utilizzabile fruibile e aggiornabile perché spesso rimaneva la carta nei cassetti perché non c'era chi la aggiornava quindi il piano di gestione famosa deve avere una durata molto lunga una plasticità dinamica deve essere in grado domani c'è il fortunale del 18 di agosto quindi azzera in parte che non vuol dire azzerare ma modifica vai subito a creare qualcosa leggibilità cioè chiunque dal più basso al più alto nella nella piramide deve leggere economicità cioè è ovvio che io non posso proporre mi farebbe molto comodo vi cito un caso a caserta su albero monumentale armilaria mellea via l'albero creiamo un buco di 20 metri cubi e cominciamo a disinfettare la lama face si sono rizzati i capelli perché capisco che il ricercatore di patologia di uninà volesse fare quello che sarebbe il top in quel momento ma non puoi farlo in certi momenti sia perché sei alla regia di caserta o a villasora e poi anche per questioni economiche sostenibilità cioè questa parola a 360 da essere sostenibile sotto tutti i punti di vista uso delle tecniche del terzo millennio su villasora noi stiamo facendo dei voli per spettrali a cosa servono intanto comincio a capire quali sono alcune malattie la presenza di insetti ci metto cinque minuti a fare il volo chiudo basta che non ci sia nessuno se sa mai che il drone caschi faremo la stessa cosa a caserta l'analisi dei 50 ettari dei tappeti erbosi semplicissimo con il drone multispetrale riesce a capire le carenze che ci sono poi abbiamo visto le rovine le rovine si rovinano ulteriormente quando la vegetazione ci va sopra come fai a evitare che la la vegetazione ci vada sopra ad esempio il criptoportico è stato pulito 25 anni fa e oggi devono rirestaurarlo per lo stesso motivo stessa cosa per il castello che abbiamo visto questa è un'idea che mi è venuta ieri l'altro ci sono dei sistemi tipo i campi da calcio che vengono riscaldati se no non puoi fare le competizioni internazionali e ho già parlato con dei colleghi olandesi si sono mi predisporranno dei pannelli in nano elements di carbonio loro le chiamano comunque si scaldano ad altissima con dei tempi ridottissimi quindi tu li appoggi sopra al tuo monumento la tua ghiacciaia dai sulla temperatura sistema radicale ovviamente si ferma non vuol dire uccidere la pianta però se tu blocchi il sistema radicale la chioma non cresce quindi non aumenti il peso e riesce continua ad avere questo effetto romantico della pianta che sta entrando nell'edificio ecco questo è un altro esempio i sistemi radicali che disfano le pavimentazioni anche qui stiamo assieme a una ditta canadese mettendo appunto dei sistemi rigidi di cupole igloo robe del genere con dentro che a questo punto potranno anche essere riscaldati visto quello che che vi ho detto prima ma con dei particolari substrati da convogliare le radici dove voglio io questo è un progetto di viale ceccarini a riccione che è un posto romagnolo i pinus pine sta disfando l'asfalto come succede dappertutto ma io posso portare le radici anche a 20 metri di distanza quindi lasciando solo il sistema di ancoraggio lasciando il viale la pavimentazione e nutrendolo tipo flebo da un'altra parte ecco cioè siamo nel terzo millennio siamo università quindi anche se questo è un giardino disegnato nel 1700 1800 come diceva sempre tu isoli applichiamo ciò che esiste il diserbante il glifosate non c'era allora adesso non posso più usarlo però lo stradellino oggi lo spazzolerò ci sono queste spazzolatrici però fino adesso ho usato il glifosate faccio un esempio assurdo tornando e chiudendo nel minor tempo possibile sull'area rilievo topografico georeferenziato cioè è la base per poter montare poi il gis che però va fatto come dio comanda non usando google dico questo perché alla regge di caserta stanno usando un sistema che per noi è assolutamente inaccettabile per il risultato che vuoi ottenere il motivo per cui inaccettabile è di tipo amministrativo quindi non non c'entra la regge non c'entra il mic era solo per dirvi se si fanno le cose bisogna sapere perché cosa le fai e quindi le devi fare nel migliore dei modi comincia anche a suddividere a livello spaziale le aree e le potenziali zone di maggior pericolo perché se economicità quindi non ho tanti soldi per far tutto da dove comincio da dove passa la maggior parte del della gente quindi posso fare un gis si è laureata ieri una una mia studentessa qui a bologna incrociando i diante i dati del diametro del fusto e il volume della chioma quando questi erano brutti non voglio dire negative perché entro in un termine matematico vuol dire che c'è maggior rischio ma questa pianta è ulteriore maggior rischio quando è sui viaglio di fianco ai giardini margherita rispetto che fosse dove ci siamo trasferiti noi ad agraria dove anche se cade probabilmente non crea danno di alcun tipo ecco cosa vuol dire lo studio dell'area da questo punto di vista ecco cercato di stringere al massimo vi ringrazio per l'attenzione ci deve essere ecco perfetto così sono salvi grazie 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 a tutti.